Un pianoforte è una tela, la musica e i colori. Una vera esplosione di energie è quella che nasce dallo spettacolo musicale Il Pianoforte che dipinge, di Francesco Maria Mancarella. Uno spettacolo unico nel suo genere, che sarà di scena al Teatro Comunale di Atri, sabato 27 maggio. Un'iniziativa dell'Aism che intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi di questa malattia. È il primo evento che la sezione di Teramo organizza da quando si è insediato il nuovo direttivo il 3 settembre scorso. Abbiamo scelto di partire con un evento culturale e musicale. La musica è un linguaggio universale che può unire tutti e quindi unisce anche il volontariato, la sensibilità e anche la disabilità, la consapevolezza sulla disabilità. Francesco Maria Mancarella ha accettato questo nostro invito, quindi ACS ha organizzato per noi questa serata. Vi aspettiamo tutti sabato 27 ad Atri al Teatro Comunale alle 18.30. Come si svolgerà anche l'evento? Perché ci sarà sicuramente un'esibizione, però anche una sorta di convegno su un tema molto sensibile. Allora, sarà proprio una serata musicale, quindi il maestro suonerà i brani del suo repertorio e coinvolgerà, ci sarà insomma un momento di sorpresa, chiamiamolo così, coinvolgerà i ragazzi che hanno frequentato il laboratorio di musicoterapia proprio da febbraio ad oggi. Quindi li coinvolgerà sul palco e non posso anticipare nulla, però sarà un momento davvero molto molto bello perché appunto è un pianoforte che dipinge, cioè proprio dipinge una tela sul palco e il martelletto appunto col colore va a segnare proprio questa tela.